Fatemi, fatemi! Queste sono fatemi! Certo, mi ricordo di lui. Offriva a tutti da bere. Tanto gentile, i suoi devono essere proprio fieri. Ma sì, non ho idea. Ok, e ti ricordi che sei andato via con noi? Sì, siete andati via tutti insieme, ma per poco non mi lasciavate lui. Ero stallone? Questo ha seguito me come cagnolino ovunque per tutta notte. Diceva, hai innamorato di me e chiesto a me di sposarlo. Un classico di sto... Non ci siamo sposati, vero? Certo che no, ma abbiamo giocato nella Chardonnay Rune. Perché? Che si fa nella Chardonnay Rune? Non cambiamo argomento adesso. Io balo per lui, lui stimola, facciamo sesso, io massaggio spalla. Cazzo! Tranquillo, ehi, non sei ancora sposato, non fa niente. L'ho tradita, ok? Senza offesa per te, sei una donna bellissima, è una violazione del mio codice morale. Non te la prenderesti tu, ma ti è piaciuto tanto. Ho vedi le lacrime, ti ce l'hai piaciuto tanto. Com'è? Vuoi dire che ha pianto? Come un bambino. Era troppo sexy, come si muoveva. Ho detto, ralenta, se no ti sparo tutto dentro. Spari? Che cosa? Oh, la sari, mio sperma. Hai problemi di vocabolario? Vuoi dire il mio sperma? Da dove verrebbe il tuo sperma? Dalle mie panni. Scusa, fermo un attimo. Non ho capito. Sveglia, sei a Bangkok. Ma molti la chiamano trans-cock. Cazzo! A te! Come hai fatto a incollarlo? Dai, sto! È stato bellissimo, siamo venuti nello stesso momento. E come funziona? Io ti ho sparato tutto dentro e tu hai sparato per te. Tutto dentro di me? Lì, papà! Ma piccaìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì